Da contadini siamo orgogliosi di aver partecipato a un progetto di ricerca con l'ospedale Saverio de Bellis di Castellana Grotta, un progetto che ha vista protagonista la nostra azienda, l'azienda Spirito Contadino, un'azienda che oggi ha 100 anni di storia, dove abbiamo consegnato le nostre verdure gratuitamente, esattamente quattro delle nostre verdure, delle cicorielle selvatiche di campo, germogli di torsella, cime di rape e senape selvatiche di campo. Verdure che coltiviamo nei nostri campi, verdure coltivate con il nostro metodo di coltivazione biofilica, un metodo infallibile, un metodo eccellente, un metodo che ci permette di garantire delle qualità organolettiche uniche e come l'ospedale ha potuto dimostrare, ha potuto constatare con dei benefici anche per il nostro corpo umano, per i pazienti che hanno mangiato queste verdure. Noi riteniamo essenziale condividere e soprattutto partecipare a un progetto nobile come questo e quindi collaborare con la medicina, perché riteniamo anche che noi esseri umani siamo quello che mangiamo e respiriamo.